Volevo scusarmi per l'assenza diciamo di video perché non sto caricando video tutti i giorni come prima ma ho avuto un po' di problemi con l'upload della connessione ora finalmente si è aggiustato e da domani ricominciamo, bella Salute ragazzi e benvenuti al mio canale sono Frank e oggi siamo qui con l'ultima missione di Battlefield 4 Credo che sarà qualcosa di assurdo Eh vediamo un po' Tanto questo è il video introduttivo e io mi ricordo che abbiamo fatto esplodere la diga nella missione precedente e questa dovrebbe essere l'ultima da quando ho visto perché erano 7 Già l'ho fatto scandare Non era in questo modo che speravo di tornare a casa Eccolo Valkyrie Già, sto filando dritta in una trappola Agganciare, agganciare Sta tutto bene? Lo stomaco sotto sopra Ma ce la posso fare Porca puttana No, Irish Controllo dei cavi statici Se devi vomitare Mira i nemici a terra Controllo attrezzatura Forza, scendiamo a terra, Wrecker Finalmente si è entrata in azione Lancio Finalmente Andiamo Via Andiamo Via Questa è la USS Valkyrie Stiamo arrivando A me non mi pare che io vado su da base Ah no, giusto giusto, che figata Tutto calcolato Alla c'è la granata però ragazzi, aspettate un attimino Andiamo Andiamo Ah già i cinesi insomma Non mi pare che fuori qualcuno Non è che muoiono Tanto belle Ok vediamo Ah ci stanno i cerchini là sopra Non ci stiamo bene Scendono ancora persone Non c'è mistica Madonna Ma che ti sopra Faccio di cinese Ma dov'è fararti giù Morì ma Non sei morto Dov'è, dov'è Please Ok vabbè La cosa che non so quanto di fine assoluto sono le flash Cioè io le flash proprio Troppo resistenti sti cinesi Ok Dai raga Però dobbiamo neanche chocchino Ma riparo Vediamo un po' andiamo da fuori Che cazzo Eh vabbè Ma le quelli stanno tranquilli sotto No Ma che cazzo State, state, state Mangato Cazzo Dov'è? Amica lo vedo ragazzi Ah ecco La baffa Dai che non c'è la cosa Ok Facciamo un pochino un M4 Vediamo come è Ok Abbastanza forte devo dire Ok No andate laggiù Ragazzi non ci vedo Porca puttana Non morite Che cazzo Ci sono adrenalina Ho capito Ci sono i cinesi Ho la posizione Va bene Riker Noi Le odio sta flash Quinte Andiamo scendere Adesso è riuscito La fa Ok Vai avanti tu Irish Che mi figo No come non detto Ma che c***o Ma fattolo Park Stavo per spararti in faccia Siete tornati Tom sono ancora in vita Che io di puttana ti dava mamma sordo bello Beh era un uomo Dopo che bene siete andati siamo Dov'è Gingy? Sta bene? E' ancora qui? Bene Sì il Gingy è al sicuro Ti porto da lui Ok Sargente che facciamo con i rifugiati? Marine Voi resterete con loro Porto Tomstone in infermeria Ti seguiamo sergente Wow Andiamo back Non era morto allora Regà Sto felice Bene Attenzione agli angoli Ehi Park Che è successo a Sigat Come te la sei cavata? Me l'avevano messo in culo E mi sono svinculato Tutto qui Mi chiedo come tu Si è diventato Tanto volgare Striscia per centinaia di metri In una fogna Con un buco nella pancia Bellissimo Non si può andare più vicini Di così all'inferno Abbiamo un pack Volgare Stai con me Reg Attacco sincronizzato Apriamo la porta Non so come si fa l'attacco sincronizzato Proviamoci Ah ok ho capito Bella attacco sincronizzato Del cazzo si muore a Ma mi piace Ho fatto tutto io Sincronizzato nel senso Che lui guardava Mentre io sparavo Quindi eravamo sincronizzati Ma che cazzo C'è un po' di cucina a pomo andare va Tutto ok Nemizi a terra Signore arriviamo Tomston è qui Bene Fate presto Guerra sono Sicuro Meglio tardi che mai squadron Dobbiamo portarlo fuori E questo è il coso No Sì come ho deciso tutto Sono gli uomini Diciamo Tieni Dobbiamo portarti Io ho deposto le armi Capitano I miei fratelli non mi uccideranno Forse non mi sono spiegato I tuoi fratelli ormai ti credono morto Sei un bersaglio come noi Un incarico Ricerca e distruzione Allora devono vedermi Porta guerra sono qui aggressivo Con me guarda Arta Andrida C'è un bravo vero Stai scherzando Irish Breaker Alla porta Sono serio Se combattiamo Nella fine Aperò io la porta Non posso lasciartelo fare Adesso ascoltami Appena entrati ti uccideranno Quella porta è l'unica cosa che ti chiede E in quella verità non dovrebbe neanche muoversi Farla così per via dello sciopero È vero E in questa stanza Sono invisibile Come fossi già morto Lo siamo tutti Se non posso mostrarti Se non posso parlare Senza paura Ai miei fratelli Allora questo Non è che sto combattendo A questi tuoi fratelli Deve non sapere chi ci sono Aperte la porta Stavo ad aprire la porta Soprattutto vediamo un po' 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 Anna vorresti mai che le cose Andassero diversamente Certo Ma fino a quando non lo saranno Continuerò a combattere Hai ragione Anna Eh Vai riesci che da ragione Che dobbiamo fare Andiamo Per te Per te sergentine Bene Per te sergentine Porca traia Buono di questa merda Ressi di te Ponda la nave di Chang E' un po' 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 Un po' Il massacro è stato un massacro, cercate di sbrigarvi se possibile, passi! Ho ricevuto partero, giusto! Ma l'airi... Ci siamo! Ma l'airi... Avatti, Thompson! Ci siamo! Questo è il nostro! Eheh, cadere! Oh no, ma è più! Adesso è finito! E non farmi... Tutto bene! Vai, piazziamo sto C4! Siamo nel loro punto cieco! State pronti! Vai, vai! Che è sta roba? Ah, che figata! Un rambino! Sta tranquillo! Sono fidati! Sì, certo! Li fanno in Svezia! Vabbè, allora! Eh, direi li fanno in Svezia! Facciamo fuoco! Wow! Oh, vediamo un po'... Oh, vediamo un po'... Tagliere! Ci stanno massacrando, cazzo! Tom Stone! Fate qualcosa in fretta! Oh, rossa! Qualcosa non va! Non c'è connessione! Recher! Cazzo, dai qui! Ben! Forza, andiamo! Ok! Solo uno di noi... Mi pareva troppo liscio qua! Recher! Hai un'altra di quelle cariche di C4! Non si ce l'ho! Da qui! Non rischierai la tua vita! Che cazzo! Sono Irish! Ricordi! Quello fortunato! Recher! Forza! Recher! È il mio paese! Devo essere lì o farlo! Dammi il cazzo! Ho il tuo paese scegliere a chiedarla! Tu non morirai! Punto! Recher da qua! Oh, merda! No, Recher, ma perché? Jinji e gli altri a bordo di quella nave stanno morendo mentre... Vabbè! Recher! Cazzo! Quando il detonatore diventa verde! Premi il pulsante! Oh, no! Che cazzo! Che cazzo! Ci siamo! Premi il pulsante, Recher! Te lo fai! Lei morirà! La reddizione, Thomson! Che cazzo devo fare, eh! Guarda, un dito sotto era un crano alternativo, ma... Ah, che cazzo! Ha dato la vita, Recher! Ha dato la vita, Recher! Ha dato la vita per tutto ciò in cui credeva! Ha dato la vita per tutto ciò in cui credeva! Portress! Qui blow down! Thomstone è a bordo! Li riportiamo indietro! Sono tutti salvi! Uno di loro è disperso in azione! Non possiamo fare nulla! Dobbiamo ripiegare subito! Ricevuto! Riportati a casa in giro! Non c'è... C'è un po' di minuto! Bé... Beh... E'o finito ragà! Espero che questo video vi aiutano con la salvezza del video per il like, se volete e se volete iscrivervi al canale... Eeeh! Hello!